se l'hai preso vai dai devo ricaricare da quanti metri 223 metri papà qua vedo un bel livello 6 insomma hai giocato si ho giocato non ci ho capito un granché per allenarmi con questa tastiera e mouse ha giocato ragazzi con mouse e tastiera col suo portatile diciamo per capire un po' i tasti mi c'è voluta poi ogni volta che devo fare qualcosa mi tocca guardare i tasti vabbè ragà allora oggi papà andrà a giro a mouse e tastiera quindi che mi ha detto si è trovato meglio rispetto al controller si perché quando tu mi prendi in giro a visuale a visuale col mouse è più facile a visuale è perché lo tieni più sotto controllo certo certo mi impicco pure con questo però molto di meno non è che te puoi imparare così in due secondi un'altra cosa che bisogna tenere d'occhio e sotto controllo è il codice supporto a un creatore che vedo perfettamente anche tu sul tuo account è il mio e beh non potevo non avere il tuo no? l'ho messo io quando sei andato al bagno mentre giocavi prima ah ok ma perché vanno più veloci di me? e poi perché decido... guarda lì ma so troppi perché tu stai per... cioè non stai dritto per dritto in verticale sì vabbè ma so troppi stai in orizzontale ma quanti c'erano su sto pullman? 250 ah stai andato sull'isola dell'altra volta? no no guarda non ci ho manco riprovato ad andarci me trolla capito? mi fa fare le stupidaggini oh tu c'hai le cuffiette mi devi dire quando senti qualcuno che arriva eh le vuoi tu le cuffiette? no 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 io già sono rimbambito di mio metto pure le cuffiette ma ora tu sei carino con la visuale oh fermati come vedi eh ok dove sta la cassa? sta sopra no io la pesca non la voglio fare non mi interessa sta sopra dove sta neanche? no no questo è il bagno però va bene questo no? ecco la cassa ah questa non sta sopra cioè io ho lasciato pure le cuffie ah questo mi piace sto coso di precisione c'è chi? non ti piace? sì 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 non ci azzecco eh però questa la scrivania non mi piace faccio materiali anche se poi non li utilizzo eh infatti quando vedi qualcuno dimmelo eh vai ah ma prendo il motoscafo c'è una cassa dentro eh sì sì va bene ma intanto so pieno io no 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 fidate c'è il pompa più forte c'è il pompa più forte ecco ste cose non riesco a capire che vuol dire eh le colorazioni sono i livelli ah mo faccio io la cassa senti fa vedere però la mappa mi sto allontanato ma dall'altra parte vabbè ma stai al centro della mappa ah sto al centro della mappa sì vabbè vedi non mi viene nessuno incontro sto già trentesimo oh lama oh lama fermate via tralasciando che tanto tu non c'è ma dov'hai ma se devi fermar lì no l'inerzia papà no ho capito l'inerzia a parte che tanto col materiale non c'è per niente però magari te da qualche scudo no niente ma con gli scudi vabbè però mi ha dato questo poi eh passa sopra ci passo sopra ci passo sopra ci passo sopra ah metti la roba mi ha dato eh sì però tanto non c'è per niente allora vediamo un po' ma perché non mi mette una segnalazione dove stanno gli altri eh sì mmh ragazzi 26esimo eh guardate che io lascio la partita così per me è una vittoria eh 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 non scherziamo ecco 25 ma che devo fa qua mo eh mo arriva ah mo arriva però mi sembra ah eccolo è parso oh il cecchino viola però al posto del cecchino all'aspetta al posto del cecchino e e no vado più avanti prendilo no prendilo ah prendilo e mettiti gli scudi e dice stanno gli scudi allora quindi togli il medikit sì mettitelo e ok devo sparare per mettermelo guarda qua che si è aperta ma non vedo niente eccolo fatti uccidere dove sta destra stanno a sparare che o chi ce n'è uno dentro stanno tutti e due dentro l'acqua stanno vai aspetta no via no papà le prego no le prego papà che l'hai preso devi ricaricare vai dai devo ricaricare devi ricaricare devi ricaricare l'ho ricaricato la cosa è dentro la tempesta eh sì corri 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 sei pure bello lontano oh sta visuale papà mi hai detto che ce la fai eh zitto zitto sto guardando dall'altra parte se questa mi viene addosso perché sì mi posso salvata la tempesta ma se questa mi ammazza si stanno a sparare chi no 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 fammi cambiare all'arma no papà no papà no papà che armi scarica quando mi hai detto cambia l'arma l'ho cambiata ma a quel punto non so che armateo eh no l'hai cambiata troppo l'hai cambiata hai fatto due mandate poi appena cambi ti devi sparare mannaggia oh ma io ho levato 110 e come quanto io dovevo levare 200 è il massimo però non so se aveva 200 o no dove ne ascondete 40 ragazzi ragazzi veramente stanno tutti qua ci sono già stato qua si è ruotato tu all'inizio eh pensati allora vado di qua ma ste macchine si possono prendere? no sono in modo scavo qui hanno ruotato? eh non lo so ma non penso non ho visto nessuno ammazza pure dentro ste case non c'è niente però l'opg beh eccolo un pesce si pesce se gli sparo? ma non gli puoi sparare non gli fa niente hanno i canni da pesca potresti questo? e questo fai così vai prendilo che sta succedendo laggiù? questo è qualcuno con un motoscapo? ma che è la cascata qua non c'è nessuno qua non c'è nessuno guarda se vinco per mancanza d'attori eh salgo? non lo so perché sei proprio al centro della tempesta guarda veramente questa la vada a vincere guarda eh eccolo e mo però con la medaglietta qua non ne faccio niente sono questi di sparare che è quello da lontano ma mira papà mira mira e niente stai solamente sparando non miri oh sto mirando sai che è un bot? cambia arma vabbè ormai spara è un bot ho ammazzato un bot non è che sto proprio soddisfatto eh perché era un bot meno male però mi fa curriculum eh sì ah prendo questa io però anche se mi ammazzo quale levo? è anche questo sì c'è con l'altro verde vedete se c'è qualcun altro dai venite mi ammazzo a tutti 24 usiamo eh non mi è mai serve il cecchino a me però eccolo che c'è sta lì? sta scendere airdrop è lontano eh ho capito è lontano io intanto devo rientrare dentro la mappa vedi guarda ah sì sì vabbè però sta qua oh fermati questo mi sta pure a sparare mi vado a nascondere ma mi sei un altro bot però è un altro bot? e allora mi giro perché ha fatto il doppio sarto? è perché ecco sta qua a destra sta a destra dove? sta qui dietro dietro sto muro sta a corre sta a corre sta a corre sta a corre è indannato i due no dove hai? eh sta a corre dietro ma dove? sta qui dietro sta dentro ah sta dentro sta dentro sì dannato guarda sta qua sotto oh bravo in testa l'ho preso sì guarda c'era pure il cecchino e vai a posto di quale? leva la mitraglietta no a mitraglietta non sei capace a usarla ma vai scusa me l'ho sbagliato no hai tolto il pompa allora aspetta devo mettermi su mitraglietta oh e poi faccio così ok vai mo ce l'ho tutte? sì sto a posto con le armi? sì no e mo? no e mo? e qua mo ho rotto tutto ho rotto tutto ma come fai? e allora niente aspetta devi costruire che costruisci? scusfascio bello eh sì tu hai eh vabbè ok dietro di te eh dietro di me dietro sto palazzo eh lo so ho capito vado lì? oh c'è uno laggiù prova a prenderlo col cecchino vai ancora sopra non è questo vai laggiù ah 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 da quanti metri 220 metri non ci credo t'ho detto a me da temer cecchino che ammazzo tutti ah 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 quello non so se era un botto ragazzi ma un botto chi se ne riprita ma chi se ne importa ho preso la distanza no non ci credo pure Pandora è contenta dai Ma non mi ferma più nessuno a sto gioco Ragazzi davvero 3 kg Sei diventato un mostro ormai Un mostro Fammi vedere se mai sta arrivando qualcuno No no da dietro Da davanti Come da dietro Allora fammi mettere quest'altra Da sinistra Ce l'hai qua sotto Mettiti un'arma Mettiti un'arma quale Ce l'hai qua a destra Sotto qua a destra ti sta costruendo A destra eccolo lì Ce l'hai qua sotto Lo vedi dove costruisce No ti sei buttato Ce le devi ricaricare No ma quanti erano Questi si erano messi d'accordo No no si stanno a sparare Ma perché erano in due Sempre nono comunque Eh però nono con due uccisioni Bello 3 Quanti ne ho fatto 3 3 Comunque te devi un attimo Gestire la situazione Quando ti iniziano a sparare Eh E mi prende Poi hai iniziato qua Sparare Fa sparare Andavi dritto e sparare Mi prende l'ansia Mi prende Vabbè raga Però è molto meglio Che col controller Ed era la prima volta Praticamente Sì sì E niente ragazzi Quanti like 300.000 like Pure se è il secondo canale Ma sì 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 Iscrivetevi se ancora Non l'aveste fatto Mi raccomando ragazzuoli Noi ci troviamo In un prossimo video Qui sul secondo canale Oppure sul primo C'è sempre il link in descrizione Ciao ragazzi Ciao Mi sento soddisfatto Ciao Ciao